Stamattina è abbastanza presto. Sono le 7 e 40, sono sveglia diciamo da le 7 e un quarto più o meno. Stavo mangiando i biscotti che mi avete visto prendere prima, poi qua il mio caffè e adesso ho messo Netflix e dovevo continuare un film che ho iniziato l'altro giorno, niente di che. Il risveglio di questa mattina è stato particolarmente traumatico perché non so voi in che condizioni abbiate diciamo il letto. Ma io ieri ho fatto mettere da mamma perché sentivo troppo freddi, sono una persona iper freddolosa, diciamo le coperte insomma di flanella e io mi sono messa il pigiama di file come potete vedere sotto. Di conseguenza stavo caldissimissima e il pensiero di uscire volevo morire, vi giuro è stato un trauma. E a parte questo alla fine invece di vedermi una cosa su Netflix vi ho mentito, proprio svutoratamente alla fine ho visto un vlogmas. Io quest'anno non so voi cosa state seguendo, anzi ditemelo qua sotto che magari se c'è qualcuno nuovo che volete suggerirmi lo seguo volentieri. Io sto seguendo i vlogmas di Cleo Toms tutti i giorni ma io lei la seguo da un sacco di anni, se mi seguite da tanti anni sapete che io la seguo da altre tanti anni. La seguo da quando ho tipo 18 anni o 19, no 18, non mi ricordo se 18 o 19 è comunque una cifra di tempo e ho visto ogni anno i suoi vlogmas quindi ormai la sento quasi un'amica. Quindi li vedo sempre con molto piacere e quelli li seguo in maniera abbastanza seria. E poi sto vedendo ogni tanto quelli di Guglielmo, di WeWash, che anche quelli mi piacciono che sono un po' diversi diciamo dai classici vlogmas. Fatemi sapere appunto se seguite qualcuno di particolari che magari io non seguo e quindi mi fate scoprire qualcosa e qualcuno di nuovo. Perché i vlogmas secondo me sono un ottimo modo per conoscere le persone perché comunque 24 giorni di video non è da tutti. Io apprezzo sempre molto la tenacia di queste persone quindi sì. Allora non spaventatevi, a parte che mi sono restaurata e vi sarà preso un infarto perché tra prima e adesso c'è tipo l'abisso. Comunque mi sono fatta questa pettinatura, prima parliamo della pettinatura e poi del rossetto che ho in mano. Questa pettinatura che immaginerete bene ho visto in uno degli ultimi vlog di Cleo della scorsa settimana però non mi ricordo che giorno fosse del calendario. Lei porta un solo ciuffetto e mi ha fatto venire così voglia di provarlo che stamattina mi sono fatta anche io questa pettinatura. Non mi convince al 100%, quindi sono certa che arrivo a casa di Alice o comunque a stasera e non la farò mai più. Però per adesso ero curiosa. Lei ne tiene solo uno però a me solo uno non piace, cioè mi piace che ci sia comunque una certa simmetria tra le due parti. Devo dirvi che non so se mi fa ridere, cioè se mi fa più ridere o più mi piace. Sono ancora indecisa quale delle due, magari fatemi sapere anche voi qui sotto se vi dà fastidio o no perché mi faceva ridere che anche lei diceva alcuni di voi mi fanno molti complimenti per questa pettinatura, alcuni di voi la odiano. Io non so ancora da che parte stare, nel dubbio me la sono testata addosso e devo dire che sto comoda quantomeno, cioè mi sono tirata indietro un pochino i capelli anche se io, lei si fa proprio una codina qua sopra che a me personalmente, cioè su di me non piace, però così devo dirvi non mi dispiace. Fatemi sapere magari questo nei commenti, non lo so, è una ricerca di qualcosa di nuovo. Che poi in realtà questa è la stessa che fa anche a volte Melissa Tani, ah mi mando un bacio perché ci conosciamo quindi magari, no, non so se vedrà questo video. Però comunque la saluto, anche da lei la vedo spesso e mi è sempre venuta la curiosità. Stamattina ho detto sapete che c'è? Buon me la provo. Mocchia da Alice, beh Alice mi prenderà super in giro perché lei queste cosette proprio non le può vedere, proprio queste pettinature così leziose, non le sopporta, quindi mi prenderà in giro. Me la farò allevare sicuro. Comunque, il rosetto che ho su invece, beh il trucco è il mio solito che vi ho fatto vedere anche nel video sulla routine su cui mi trucco tutti i giorni, che è il mio trucco iper top di quando non mi va di pensare a come truccarmi e di quando voglio essere carina e so già di poter contare su questo make-up perché così mi piace. Il rosetto che indosso invece è Zen della collezione Natalizia, non mi ricordo se è dell'anno scorso o di due anni fa di Nabla, che è uno dei miei colori preferiti, cioè è un colore che vi va ad aumentare tantissimo il volume delle labbra, guardate. Cioè, sembrano super grandi e mi piace anche perché è un nude che non è troppo aggressivo, non è troppo quatto, però si vede che ce l'avete insomma, mi piace moltissimo. Adesso vi faccio vedere come sono vestita e poi boh, ah, dove devo andare? Mea office, oggi anche nuova giornata di lavoro a mea office, molto tranquilla e oggi dobbiamo allestire il mea office per le decorazioni, cioè per Natale, quindi con le decorazioni natalizie. E sto bloccando appunto proprio per quello, quindi non dovrei andare troppo troppo tardi. Allora, vi faccio vedere l'outfit qui, anche se poi vi voglio far vedere per intero come mi sono vestita perché nell'outfit di oggi c'è della poesia. Allora, ho questo maglioncino che è tra i miei preferiti comprati nell'inverno scorso, questo qui è di Stradivarius, è molto comodo, molto caldo ed è di un colore particolare, nel senso che a voi sembrerà bianco. In realtà è bianco con dei fili marroncini chiari, tipo color sabbia, seppia, insomma, vedete? E mi piace molto. Sotto ho dei leggings, quelli dell'altro giorno tra l'altro, quindi super morbidi, super lisci, super comini. Vabbè, è sotto le ciabatte, adesso devo capire, l'unica cosa che non so che cosa mettere sono le scarpe, però ho deciso che giubbottino mettere ed è molto particolare, poi ve lo faccio vedere. Anche borsa sia del computer che altra preparata. Allora, premetto che è un outfit che non piacerà sicuramente a molti perché è particolare, a me piace molto. Allora, la sciarpa forse è l'unica cosa con cui posso dar ragione che non c'entra molto, ma purtroppo non ne ho altre tirate giù ancora perché siccome non fa abbastanza freddo non posso tenere tutto nello sgabuzzino e quindi aspetterò fino a quando farà freddo per tirarle tutte fuori. Quindi questa è l'unica che ho giù, quindi la devo usare per forza e non mi posso ammalare, è più importante dell'outfit di non ammalarmi. E poi ho questa pellicetta finta di Sisley che ho preso lo scorso inverno in saldo all'outlet, scusatemi, smanicata, però non fa ancora così freddo da dover coprirmi tutta. Poi ho questa, la shimashi rossa perché volevo un tocco di colore, se no mi faceva troppa distrezza e poi ho queste che sono delle scarpe vecchissime che ho tipo da quando andavo al liceo, però sono molto comode e non avevo voglia di mettere niente di che. Ripeto, ovviamente non mi aspetto che piaccia a tutti perché è un po' particolare, nel senso non è sicuramente, diciamo, non rappresenta molto i gusti di tutti, però devo dirvi che non mi dispiace. Poi siccome questa cosa si può usare pochissime volte l'anno perché ovviamente quando fa molto freddo io sento freddo sulle maniche, mentre quando fa molto caldo sento caldo qua. Oggi mi sembrava proprio il tempo ideale per prenderla e poi oltre alla borsa che vi ho fatto vedere che sta qui, rossa, ovviamente qua dentro adesso la riprendo, insomma ho la borsa del computer con l'ombrello, eccetera. E Alice oggi sicuramente mi prenderà in giro dalle scale, io lo so perché questo outfit per lei sarà, cioè lei, sapete no, è molto tutto nero, quindi sicuramente mi prenderà in giro. Oggi mi picco le sorprese in giro. Sono arrivata da Alice e come potete vedere c'è già un'atmosfera natalizia data dall'alberello qui dietro acceso apposta per l'occasione. Qui sono arrivata... È completamente buio che potrebbero essere le occhi di scena. Sì, vabbè, oggi c'è una giornata veramente, veramente strana, cioè è nuvolosa però particolarmente buia. Tra l'altro mentre stava arrivando mi ha anche presa la pioggia, fortunatamente ero quasi arrivata, quindi poca poca, insomma, però... Chissà se adesso ho smesso, sicuro. Sì, adesso ho smesso, ovviamente. Vabbè, manco a dirlo comunque. E adesso stavamo un attimino facendo il punto della situazione, capire che cosa dobbiamo fare, lamentarci un po' perché la nostra giornata inizia con... No, io comunque non ce la faccio. Mi dà fastidio, mi urta, quello odio, quello... Così, 20 minuti. No, infatti è normale, cioè, è normale. E poi, insomma, ci mettiamo a lavorare su un po' di cosine che dobbiamo fare oggi, tra cui dobbiamo allestire il mio office. Dove stai per Natale? Ah, dietro la lampada. Dopo un primo momento, appunto, di malessere generale che... Che è successo? Mi ha fischiato un attimo l'orecchio. Non pensavo sia stata io, dicevi che avevo alzato troppo la voce. Ah, no, no, no. E che... E adesso ci siamo messe subito a fare delle cose che dobbiamo fare sempre di lunedì. Siamo entrambe qua col Mac a lavorare. Dopodiché dobbiamo ancora capire come gestire la giornata, perché avete presente quel lavoro infinito che stiamo facendo la scorsa settimana di cui vi abbiamo parlato, che non possiamo far vedere, bla bla bla. Ecco, lo dobbiamo anche tradurre in inglese. Questa cosa, diciamo, che non l'abbiamo ben, come dire... Non compresa, però, come dirvi, io me la dimentico sempre, perché di solito non... Cioè, non è che non utilizziamo l'inglese nel nostro lavoro, però mai così in richieste esplicite, insomma. Cioè, di solito ci serve per tradurre articoli di cui noi vi parliamo su Mea. Ci serve per aggiornarci sul nostro lavoro, ma mai ci viene chiesto di fare una cosa in inglese. A questo giro, invece, dobbiamo scrivere una cosa e tradurla pure in inglese. Ora, sarà una grande impresa. Per carità, noi siamo... Cioè, insomma, ce la capiamo, abbiamo preso il B2 all'università, la prima botta, quindi, insomma, siamo... Mastichiamo. E che... Però... È un miracolo, perché... Sì, nessuno, cioè, tipo in quattro l'abbiamo preso su quaranta, al primo esame che abbiamo fatto all'università, vabbè, comunque. Però non siamo abituate proprio a tradurre. Tra l'altro va fatta una traduzione, tipo, quelle di un libro, cioè, vanno fatte proprio bene. Anche con uno stile. Anche con uno stile, cioè, ci deve essere un tono di voce. Ci sono parole anche non di uso comune, perché io penso, cioè, che noi entrambi siamo in grado di tenere una conversazione con una persona in inglese. Ma dover tradurre... Immaginatevi un articolo di giornale in inglese, non dall'inglese all'italiano, che sarebbe facile, ma dall'italiano all'inglese, che è più difficile. Perché, sai, tradurre in italiano tu riesci poi a trovare il sinonimo giusto, l'aggettivo giusto, eccetera. Invece così è complicato. Quindi ci metteremo una vita, anche perché sono tipo sei pagine per plico, quindi... Oggi sarà molto divertente, però ci manca ancora l'ok per poter procedere con questa cosa. Quindi ora... Quindi adesso ci mettiamo a fare le decorazioni subito, così ce la leviamo. Anche perché finché c'è un barlume di luce, cioè a un certo punto è uscito il sole per tipo 10 secondi e poi è già sparito. Vabbè, adesso capisco come posizionarvi, che cosa prendere e poi iniziamo. Allora, innanzitutto abbiamo queste qua, che hai preso da Tiger, vabbè c'ha un fonte inconfondibile. Super farine queste. Super carine, sì, infatti mi sono sorpresa quando le ho viste, perché mi sembravano un po' trash anche per te. No. No? Non troppo, va bene. Poi abbiamo dei pupazzetti che mi inquieta vedere dentro casa di Alice, perché io sono... Che te erano di quando eravamo bambini? Tu. Un bambino e un pupazzo di neve. Poi abbiamo la candela natalizia. Delle decorazioni e poi altre lucine che abbiamo là. Adesso cerchiamo di mettere tutto. Porta fortuna. Come sei furba. Tra l'altro adesso è uscito un sole. Sì, hai visto? Sì. E dai, decente. Il primo anno va così. C'è della povertà nell'aria. E va bene, dai. Questa è dignitosa. Di un povero. Il passaggio più semplice, Alice che commenta la tristezza di questa cosa, di questa operazione. Vabbè, questo piattino, noi ci sono... Uh, super cute. Questo lo userò più che altro per farmi le foto. Questo qui ce lo mettiamo qua. Questa la accendiamo nei momenti di tristezza perché è una preghierina. Sì, esatto. Questi li mettiamo direttamente là così se piano fuoco ci divertiamo. No, io li metterei... Dove, scusami? Vicino a questo? Ah, vicino al gatto della fortuna vogliamo usare un... No, e dove li mettiamo? Qua, allora? Sì, dai, mettili almeno là, un po' più vicini. Allora, qua ci mettiamo le caramelle e tutte le schifiche che compriamo. Già, brava. Questi sono più per... Sì, perché noi stiamo sempre mali, come vi ho detto. Quindi in realtà noi ci diamo sollievo con le golie invece che con il cioccolato, eccetera. Però, insomma, lo teniamo aperto. Queste, che ce fiamo? Le mettiamo là e quelle le mettiamo dietro? Non lo so. Ma te, non le rompere subito, eh? Sono molto molto carine. Ma beh, guarda. Sono carine perché sembrano dei chicchetti di riso luminosi. Non lo so. Non le ho mai visti? Eh, perché io ho delle fonti... Ma quali? Dove le hai prese, infatti? Facci un po' di... Da Ikea, penso, sai? Ah. Ah, là sono anche mainstream. Eh sì, sì, le possono trovare tutti. Però le ho prese l'anno scorso. Vabbè, ma Ikea, sono vent'anni che rivende sempre la stessa roba, mo'. Le incastro? Sì, basta che non le rompi. Non le sto rompendo, vorrei che mi suggerissi però perché... Ma sì, fai una cosa un po'... Mamma mia. Noi siamo pessime comunque. Martina, poi io almeno non sono youtuber, tu dovresti essere pratica di queste cose. Allora, non è che siccome uno si iscrive a YouTube diventa Zoella automaticamente, così, fa tutte cose belle. Io non sono capace. Ma queste dove ce le mettiamo? Martina, poi vedremo. Ma poi vedremo cosa le mettiamo sulla scrivania? Secondo me le mettiamo sulla scrivania qua dietro. Martina, ma fa schifo. Allora, senti, non ho la pazienza necessaria. Io pure, io vorrei chiamare qualcuno che mi decora l'albero. Le decorazioni mi piacciono, ma non mi piace metterle perché... Perché no? Martina, stai attenta all'albero. L'albero, ma adesso vi facciamo vedere che cavolavoro c'è qua sotto. Ah, mi puoi parlare e dire come devo mettere? Ok, vai, vai. Ok, però questa cosa qua a penzolone non mi piace. Martina però, eh. Eh, Martina però l'hai toccata di... Qua c'è il Kotler di marketing. Beh, quello deve essere pieno di luci. Ecco, vedi che non sei capace. Dov'è? Zoella quando serve. Intanto io faccio... Mentre lei fa ogni ripetente un anno a sistemare questa cosa, io faccio vedere il pezzo forte. Che è questo... Questo finto albero di Natale. Benjamin. Benjamin. Sì, vabbè, però è per dire che siccome non abbiamo trovato un albero di Natale degno, il prossimo anno ce l'avremo però, abbiamo preso appunto il Benjamin e ci abbiamo messo questa cosa qua. Adesso capiamo se lo riusciamo ad alzare, magari mettiamo un seggiolino, la mettiamo qua adesso. Sopra la cucetta di Zedra. Devi attendere il buio per fare l'effetto buio. Volevi la luce? Ecco la luce. Adesso dobbiamo aspettare. Oggi un merito poi mi faremo vedere perché secondo me viene molto carino. Intanto abbiamo messo questa, però abbiamo convenuto che secondo me è tutto molto più poetico nel pomeriggio, perché questa luce non è natalizia, nel senso che di solito il Natale è atmosfera calda e colori, diciamo, tipo dell'autunno, no? Invece questa sembra estate con le lucine, quindi adesso aspettiamo il pomeriggio e poi facciamo vedere verso le 5 com'è. Sapete tra l'altro perché in questo ufficio fa caldo? Perché c'è questa qui che emana praticamente 50 gradi sui piedi, poi ti si appoggia addosso e così, e così tutto il giorno e lei sta qua. A volte poi uno se ne dimentica per caso la schiaccia un po'. Un povero. Ma no, non lo faccio apposta, però a volte mi si siede magari sui piedi, io penso che siano le sue ciabatte perché sono della stessa consistenza, invece poverina è lei. Dicci un po' al popolo che c'hai da offrirci oggi. Allora, oggi abbiamo i bolletti e visto che le zucchine si stanno rovinando, le zucchine è tal forno che ci piacciono, no? Il pranzo di oggi è meno allegro di quello della scorsa settimana che prevedeva la pasta, quella grassa che piace a noi, però comunque molto buono, cioè i bolletti, che tra l'altro sono i finti nuggets di McDonald's, e poi le zucchine fatte come le falice al forno. Questo è il nostro pieno pranzo e poi io già mi sono mangiata un paio di noci, dove ne rubo anche altre perché questa è la mia stagione preferita solo per loro. Siamo qui a fare la siesta con la risce, io sto finendo il mio caffettino, sono offesa e prima non me lo riesco addosso. Stiamo vedendo qui dietro al computer, perché ogni tanto quando stiamo qui non ci annoiamo, però insomma è stato tutto il giorno insieme a un certo punto, oddio la chiacchiera non ci finisce mai, però per sentire anche una voce che non è la nostra, mettiamo un video su YouTube, oppure adesso è uscita, cioè non adesso, però in questi giorni è uscita l'intervista di Fedez al programma La Confessione, e quindi io, lei la va già vista, io invece no, e quindi volevo vedere dei pezzettini renti, insomma le cose che più a tutti ci attirano. Sì, nel complesso sono d'accordo con te, con quello che stavi dicendo, cioè che lui ne è uscito vincitore, proprio... Sì, è stato molto, cioè il punto è che secondo me, anche nel, cioè appunto ha visto la storia con Jay Hatz, eccetera, cioè ha dato le colpe, ma si è anche preso tante colpe, e secondo me questa è stata una cosa di gran signore, cioè che ha messo un sacco di suoi sbagli. Diciamo che io mi sono molto immedesimata, ovviamente io non sono niente in confronto a lui, quindi perché, cioè, non intendo ovviamente a livello né di successi né di niente, ma proprio a livello caratteriale lui mi sembra esattamente come sono io, c'è una persona molto passionale nelle cose, nel bene e nel male appunto, quindi anche nel lavoro, ma come nelle amicizie, cioè che hai un carattere molto forte, e purtroppo se le cose non si risolvono, man mano che accadono, alla fine te le trascini dietro, alla fine ti esplodono in mano. Quindi mi è piaciuto molto la sua intervista, mi è sembrato sincero, poi chiaramente ogni storia ha due lati, quindi aspetteremo di sentire la risposta, che però sta tardando ad arrivare, non è un buon segno, io spero si facciano sentire presto, perché se no questa cosa li affonda totalmente, cioè a livello di pensiero comune... Eh sì, devastante. Ma cosa ti arrabbi? Passa di là! Zeta, vieni, dai, vieni qua! Sono tipo 10 minuti che piange, la porta è aperta, noi siamo lì dentro, cosa piangi? Mi spieghi cosa c'è? Che cosa piangi, eh? Abbiamo acceso le lucine per provare, sono le 4 e mezza. Sì, ma come se fossero le 9. Sì, è pronto le 9 di sera e abbiamo acceso sia queste che quelle qua davanti con gli alberelli, però quelle ovviamente si vedono poco rispetto al... Adesso le facciamo vedere con la luce spenta. Adesso facciamo vedere anche con la luce spenta per stare tranquilli, comunque ne stiamo lavorando, ha un nuovo luogo che dobbiamo fare molto importante, ovviamente anche questo di nostra sponte. Cioè, in realtà questa è una via di mezzo, sì, l'idea di nostra sponte, però dall'altra parte c'è stato un po' un, come dire, un darci un dito e noi ci siamo prese tutto, praticamente, ovviamente. E quindi sì, stiamo cercando, insomma, di trovare una quadra per questa cosa, sì, comunque per far vedere ovviamente sempre come scopo ultimo cosa siamo in grado di fare, comunque che idee abbiamo. Comunque apro una parentesi su questo rossetto. Ma hai visto in che condizioni splendidea ancora? Io non l'ho mai ritoccato, eh. Cioè, abbiamo pranzato, mangiato, bevuto, bevuto il caffè. Nabla. Questa è la lucina che abbiamo davanti, che è verdognola, come gli alberi di Natale, poi accendremo quello che è il cero pasquale quando ce la sentiremo. E invece di qua, appunto, è così. Dai, di qua è carino. Io sono appena arrivata a casa mia, non vi posso far vedere l'orario, però fidatevi sulla parola, sono le 7, perché il telefono sta laggiù. Comunque sono le 7 di sera e sono tornata proprio adesso, 5 minuti fa, il tempo di levarmi, insomma, il soprabbito e le scarpe, insomma, mi sono venuta a mettere qui in camera. E sono abbastanza stanca. Abbiamo lavorato molto al computer oggi, abbiamo appunto trovato anche una quadra per il logo di cui vi parlavo, abbiamo un po' lavorato in inglese, insomma, abbiamo fatto un bel po' di roba in realtà. Vi dico già che il titolo di questo video sarà tipo Decoriamo il mio office fallito miseramente, nel senso che, come avete visto, ci immaginavamo di avere molte più decorazioni e di fare una cosa molto più carina, però siamo abbastanza incapaci e sinceramente non ci andavo da spendere un patrimonio nelle decorazioni. Volevamo comunque mettere qualcosa di carino, che poi principalmente consisterà nelle lucine, anche perché non siamo grandi fanatiche di pupazzetti e di nino, lì ne abbiamo messi proprio giusto due tanto per, ma... Comunque devo dire che la pettinatura che mi sono fatta ha avuto un sacco di successo, voi direte da chi. Alice non mi ha detto niente alla fine, quindi forse non era così tremenda come pensavo. Mia mamma appena sono entrata mi ha accolto dicendo che oggi ero bellissima, mi aveva visto su Instagram, e anche un sacco di voi su Instagram mi avete detto che stavo benissimo, quindi mi ha detto che mi dona al bianco sia queste cosine, che poi io mi sembra... Sapete cosa mi sembro? Ora l'ho realizzato. Moshu di Mulan, avete presente? Che cosa c'ha Moshu? Baffi forse, ecco mi sembrano i baffi del draghetto di Mulan, uguale. Io spero che questo vlog vi abbia intrattenuto e tenuto compagnia, mi faceva piacere vloggare oggi, mi andava proprio di farlo, e quindi ho cercato di farlo al meglio delle mie possibilità. Se riesco magari un altro giorno in questa settimana vlog, se ho qualcosa di mediamente interessante a dirvi, come vi ho detto, farli tutti i giorni sarebbe impossibile, perché tutti i giorni, i miei giorni vanno così, più o meno. Domani invece viene Alice da me a lavorare, e niente, facciamo la stessa cosa che mi ha fatto da lei, però da me. Stasera sono contenta, dicevo perché ci sono i medici, che è una serie che ho seguito dalla prima stagione, e devo dirvi che la mia preferita è stata la seconda. La prima, nonostante Richard Madden, fosse tipo l'unico motivo per cui la guardassi, non è che mi ha fatta impazzire, la seconda a livello di storia l'ho amata, perché io amavo Francesco Pazzi, cioè Matteo Martari è tipo la mia anima, il giumello, ma lui non lo sa. E questa stagione mi sta piaciucchiando abbastanza, non bella come la seconda, però manco anonimina come la prima, ecco. Fatemi sapere se voi la guardate, qual è la vostra preferita, insomma, delle tre stagioni. Io vi mando un bacio, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!